Ciao a tutti Carbonelli, io sono Foco e oggi siamo su una puntatina molto veloce di Airstone Airstone perché avevo voglia di provare e ho visto che costavano pochi mazzi e mentre mi stavo prendendo avrei voluto aprire qualche mazzo che dire, ho fatto due partite contabili e ovviamente so che non sono ragazzissime e mi piace moltissimo vedere Luke fare un video su questo gioco e che anche poche persone le fanno quindi perché non approfittare visto che c'è un gioco massimo, vediamoci, c'è un'altra, non so che si fa così, questa è rara intanto poi mi rendo calma e poi se mi va, la facciamo insieme che la possiamo sempre fare perché è una bella, come si diceva, buona rara quindi queste classiche, queste là, come si fa, buono, buono, buono un personaggio, questa è l'ultima quindi, ho la cosa che vi ho spiegato, i prossimi tipo le sangue, perché l'unica cosa che c'è un gioco, mi darà una, tu lo vengono la rara rara, ma co' fai? questa cosa a zero non è male puge ma questo è puge ma, beh, puge puge, se non lo sapevi, è quello di doda però quindi ragazzi, io vi invito a farmi sapere cosa ne pensate e se volete, aggiungetemi oddio, come si faceva, io so che c'è sta un id eccolo qui ragazzi, questo è l'id mi aggiungete e... alla prossima, ciao bro!